Buonasera a tutti, è appena terminata un'ingredibile partita tra New Team e The Unknown finita per 14 a 3, qui con me è tutta la squadra del New Team come potete vedere Allora ragazzi con chi cominciamo? Un volontario di parlare Nicola, l'unica cosa che parla solo in inglese Nicola Raffino che parla solo in inglese, speriamo stavolta che lo sia per l'italiano Nicola, veramente una partita bellissima tua e tutta la squadra Molti di voi hanno fatto una tripletta, quindi oggi scegliere il migliore in campo è anche abbastanza difficile Qualcosa che vuoi dire tu proprio sulla partita? Hai capito cosa ha detto? Siamo molto felici, siamo molto felice Valla più forte La squadra gioca molto insieme Siamo un po' 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 Eravamo un po' spaventati dalla gara E' anche i due Antonio Mirabito E' anche i due Antonio Mirabito E' anche i due non sono così buoni giocatori Ma il resto del team gioca insieme Quindi noi vinceremo il gioco Abbiamo vinto la partita grazie tutto il resto della squadra Quanto a vedere i like? E come non hai troppo? Tutti il resto della squadra Ciai righini Complici righini e un saluto ad Alessandro Pinocchiano